Ciao, io sono Daniele e questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Oggi sono particolarmente pimpante, quindi voglio parlare con voi non solo di un brewing, ma tutto quanto quello che ci sta attorno. Di che cosa voglio parlare oggi? Allora, novembre, mese di grandi novità, per esempio, infatti adesso vi farò il classico hashtag save the date, quindi tenetevelo ben a mente per la prossima settimana, che il 12 novembre ci sarà un appuntamento molto importante la sera, quindi ne sto cominciando a parlare adesso proprio per spargere meglio la voce e per cercare di essere presenti in massa. Di che cosa voglio parlare? Allora, sappiate che se non siete nuovi di questi podcast sicuramente avete sentito parlare di Robid Beer, il sito di Davide Cantoni, grandissimo home brewer, che insieme a un altro nostro caro amico, si chiama James, che è il gestore della pagina Instagram Home Brewing Experience, hanno fondato una cosa che è super mega fichissima, ovvero l'Home Brewing Experience Academy, che è questo nuovo format di cui io sono stato invitato a partecipare e sarò la voce, e questa cosa mi riempie molto di orgoglio, dove cercheremo di presentare ogni volta, in diretta soprattutto, un personaggio di spicco dell'ambiente dell'home brewing italiano, quindi stiamo parlando veramente di gente con incontro attributi, dove si discuterà di home brewing a livello avanzatissimo, dove io cercherò in qualche modo di fare da moderatore di questo canale, sarò la voce narrante, accompagnerò il relatore per fare la sua, salvicoletta, lezione accademica, per poi eventualmente lasciare spazio a delle domande a cui lui si sentirà libero di rispondere e interagire con tutti quanti noi. In che modo questo? Utilizzando comunque una piattaforma nota per, soprattutto a chi gioca online, che è Discord, che è una sorta di applicazione o comunque programma, software, accessibile via web, via device, via tablet, via come vi pare, per poter parlare e soprattutto ascoltare con un gruppo di amici. James ha fondato questo canale che è appunto esclusivamente dedicato agli home brewer sia italiani che di tutto quanto il mondo, perché James ha contatti più o meno di tutto quanto il mondo con la sua pagina Instagram, è fighissima, se non la conoscete andatela a sentire, cioè a sottoscrivere e soprattutto c'è uno spazio dedicato appunto per la chat vocale, quindi possiamo parlare tra di noi. In questa serata praticamente ci sarà un relatore, che per il momento non vi posso svelare chi è, ma lo svelerà lui stesso e quindi sarà veramente una sorpresa ragazzi, farà una lezione, una vera e propria lezione su un tema legato all'home brewing. Questa sarà la prima di una lunga serie, quindi mi raccomando appizzate le orecchie come si suol dire, perché sarà sicuramente molto 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 interessante, ci sarà molto da imparare e anche divertirsi, perché ovviamente lo spirito del fondo è quello ragazzi, condivisione, divertimento, siamo qui anche per quello insomma. Quindi dicevo, andate, caso mai poi vi lascio in descrizione il link all'articolo di Davide in cui viene spiegato in filo e per segno come si accede a questo canale Discord, è inutile che ve lo dico qui mentre parlo e mentre guido perché effettivamente servono dei link se non li conoscete, quindi non è che vi posso dettare HTTP, insomma ci siamo capiti. Quindi ragazzi, io sono contentissimo di imbarcarmi in questo nuovo progetto con Davide e con James, sarà sicuramente una gran figata, Home Brewing Experience Academy e mi raccomando il 12 novembre sera intorno alle 21 ci troviamo tutti quanti lì per parlare, per parlarne e soprattutto per fare gruppo e soprattutto se la sera non avete niente di meglio da fare, joinate questo canale e parliamo perché a volte ci sono io, a volte molto spesso c'è Davide, ci sono anche altri Home Brewers del canale Automatismi per Home Brewers, ma insomma siamo tutti quanti lì che la sera quando siamo stanchi dopo una giornata lunghissima ci facciamo due chiacchiere in compagnia in allegria, però ovviamente per parlare sempre di Home Brewing perché purtroppo ci abbiamo questa malattia, se ci avessimo avuto un'altra malattia non staremmo qui tutti quanti insieme. Quindi ragazzi io vi saluto, vi do appuntamento appunto al 12 novembre, hashtag save the date per scoprire insieme il fantastico relatore di questa prima puntata di Home Brewing Experience Academy dove io sarò semplicemente un mero relatore, no un mero relatore scusate, un mero moderatore dove ci sarà la possibilità di fare anche delle domande in diretta appunto al relatore, domande vocali quindi sarete voi che potete fare delle domande e il tutto quanto comunque poi sarà disponibile in un secondo momento su un'altra piattaforma che poi adesso casomai vi comunicheremo appena definiamo ancora tutta quanta un'altra serie di piccoli dettagli tecnici. Ecco ragazzi mi raccomando diffondete la voce, incontriamoci, parliamoci, sentiamoci perché fino adesso avete sentito soltanto la mia di voce, mi farebbe piacere sentire anche la vostra e sarà sicuramente una grandissima figata. Appuntamento il 12 novembre, già l'ho detto alle ore 21 sul canale Discord di Home Brewing Experience Academy e soprattutto divertiamoci insieme perché ce n'è veramente, veramente tanto, tanto, tanto bisogno. Ciao ragazzi, buona giornata e buon lavoro!